Chi frenava Adolf Hitler nelle sue continue e clamorose violazioni delle regole, dei patti e nella crescente negazione dei più elementari diritti umani, non solo nei confronti degli ebrei, ma anche del proprio popolo? Io sono andata a scuola a sei anni e se a un bambino a sei anni si fa vedere così alcune immagini dicendo questo è biondo, bello, bravo, popolo superiore e quello accanto ha i capelli crespi, neri, il naso lungo, è un delinquente, vuole portare alla rovina il popolo tedesco, state attenti e non solo è diverso dai tedeschi, gli ebrei hanno anche il sangue diverso, quasi come dire a noi bambini, questo è un popolo che non ha il nostro sangue, quasi quasi ha un sangue, un misto fra sangue umano e sangue di bestia. Questo ho vissuto io a sei anni, ma tutti noi bambini e quando parlo io posso parlare perché ho voce per poter dire queste cose, tantissimi altri non potranno mai dirlo. All'epoca dalla parte delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale ed erano della prima guerra mondiale, vigeva una diffusa e davvero eccessiva indulgenza nei confronti della politica violenta ed aggressiva di Adolf Hitler e tutto ciò che decideva Hitler, che esigeva e realizzava, non trovava ostacolo da parte di nessuno. Perché ad esempio nessuno reagì quando, malgrado avesse in precedenza, ha accettato un piano, si chiamava il piano McDonald sul disarmo, Hitler riarmò la Germania e non poteva. Però quando Hitler diceva, sapete io vi ho dato lavoro al popolo tedesco perché c'erano sei milioni di disoccupati e quando lui divenne cancelliere tutta questa gente è andata nelle fabbriche belliche a riarmare un paese che secondo il trattato di Versailles non poteva riarmare. Ma perché gli hanno fatto fare tutto questo? Stavano tutti zitti. Né quando nel 1936 Hitler invase ed occupò la Renania, una zona della Germania, demilitarizzata violando ancora una volta il trattato di pace di Versailles e perché l'Inghilterra, pur sapendo che in base a quel trattato Hitler non poteva avere una flotta concluse con lui un patto navale e l'annessione dell'Austria al Reich nel 1938 sapete, noi in realtà eravamo austriaci quindi mio padre era austriaco mio padre voleva fare solo il pittore era timido, era pacifico voleva fare il pittore in Austria se non che mia zia, sua sorella aveva sposato un ricchissimo berlinese e per questo eravamo a Berlino ma la nostra disgrazia era quella che Hitler annessò si dice annessò? Sì, annessò l'Austria alla Germania e dalla sera alla mattina eravamo diventati tedeschi e mio padre non poteva più fare quello che gli pareva come tutti gli altri doveva fare la guerra per Hitler ed è andato ed era stato chiamato al fronte alla flac cioè quei fari che cercavano gli aerei nemici per abbatterli e poi gli accordi di Monaco anche questo è incomprensibile tutti lì allora anche i suddetti venivano annessi all'Austria e tutti concedevano tutto quanto a Hitler infatti Adolf Hitler era un astuto giocatore si giocava la Germania della quale si era impossessato e pensate che Adolf Hitler non era neanche cittadino tedesco un bel anno credo che fosse il 37 giù di lì qualcuno diceva dobbiamo pur dargli la la cittadinanza tedesca e questo è una di quelle cose storiche pazzesche cioè arriva uno dall'Austria non vuole neanche fare il militare per l'Austria lo fa gratuitamente come volontario in Germania si impossessa di un paese e manco è cittadino tedesco allora no vorrei dirvi un'altra cosa come per quale motivo Adolf Hitler era considerato un diciamo un abilissimo giocatore d'azzardo 1936 Berlino ospitò i giochi della undicesima Olimpiade e Hitler con molta capacità davvero trasformò trasformò l'evento in uno strumento superbo di propaganda mostrò una Germania ordinata pacifica civile efficiente ed organizzatissima e con il massimo dell'ipocrisi per tutto quel periodo ogni traccia di persecuzione ebraica fu accuratamente proibita e nascosta furono venduti oltre 4 milioni di biglietti per quelle Olimpiadi anche di stranieri la Germania stupiva il mondo per la prima volta le Olimpiadi vennero addirittura trasmesse dalla televisione tedesca e parliamo del 1936 anche se in realtà insomma quelli che possedevano un televisore erano pochi però ancora ancora una volta furbescamente avevano così organizzato delle cosiddette sale televisive dove il popolo poteva assistere gli stessi atleti stupefatti seguirono le gare in apposite in queste sale televisive e la stampa mondiale scrisse meraviglie su questa Germania bella forte civile disciplinata e modernissima e nessuno ma proprio nessuno intuiva quale orrenda faccia nascondesse in realtà il nazismo allora all'epoca secondo me molti colpi ci sono state per fermare Hitler per fermare il nazionalsocialismo non lo hanno fatto anzi più in là anziché preoccuparsi per i segnali sempre più evidenti e allarmanti che provenivano dalla Germania nazista i paesi neutrali continuarono a mantenere tranquillamente con Hitler normali rapporti diplomatici organizzando insieme a questi nazisti convenni congressi e feste internazionali il problema era quello che si celarono dietro a un atteggiamento di non interferenza nella politica interna di una nazione e così il nazismo è andato avanti fino ai campi di sterminio e sappiamo anche che Auschwitz fu sorvolato più volte da aerei di ricondizione sapevano cosa stava succedendo ad Auschwitz e negli altri campi ma anche questo credo che non è mai stato veramente chiarito perché sapevano e perché non sono intervenuti ma c'era dell'altro e poi faccio anche una piccola testimonianza della mia vita di bambina a Berlino poiché i nazisti avevano bisogno di ottenere il riconoscimento internazionale del proprio governo e poche cose avrebbero potuto dar loro un immediato prestigio come l'ufficiale apertura di un canale privilegiato con il papato nel 1933 Hitler aveva inviato a Roma il suo vice cancelliere che si chiamava Franz von Papen con il risultato che il 20 luglio dello stesso anno fu firmato con il segretario di stato del Vaticano Eugenio Pacelli che poi nel 1939 diventerà Papa Pio XII un concordato fra la Germania e la Santa Sede in cambio di una in realtà un po' generica promessa di libertà e protezione della Chiesa Cattolica in Germania così i nazisti avevano ottenuto la fine di ogni interferenza politica dei cattolici ma e qui si dimostra quanto era bugiardo e falso il regime di nazista appena questo von Papen aveva concluso le trattative ed era ritornato a Berlino il governo di Hitler diede il via alla sterilizzazione forzata di circa 400.000 cittadini tedeschi portatori di malattie genetiche ed ereditarie e prontamente cominciò le ostilità proprio verso la Chiesa c'erano donne che venivano convocate in un ufficio e così con una scusa chiedevano nome cognome cosa faceva mentre era nascosto sotto di lei i raggi X che la bombadavano senza che lei lo sapesse la bombadavano lo sapete i raggi X insomma poco si può fare ma non per mezz'ora rendendola inconsapevolmente sterile queste sono sono cose orrende incomprensibili al giorno d'oggi ma sono successi la storia di queste cose parla poco o forse non ne parla ma se ci pensiamo è terribile ciò che resta comunque indelebile nella mia mente è il ricordo della Berlino agonizzante io amo ancora Berlino perché l'ho vista morire da un certo periodo in poi i tedeschi e anche noi fummo bombardati giorno e notte al mattino arrivavano gli americani di notte gli inglesi e non si dormiva più non si dormiva mai perciò eravamo sempre in cantina costretti a bivacare vecchi madri bambini malati ormai stabilmente nella cantina del nostro palazzo nella cantina ovviamente c'erano rudimentali letti a castello mi ricordo il mio io ero su un letto a castello che era a circa 15 cm dal soffitto e tutte le volte che c'era un bombardamento io fisavo il soffitto e mi diceva non so a chi fai che non ci copisca questa prossima bomba perché si sentiva un grande rumore e se sei continuamente bombardato da bambino qualcosa per tutta la vita insomma ti resta dentro no? quindi c'erano anche candele perché da tempo non avevamo la corrente elettrica e non c'era ovviamente gas per cucinare niente riscaldamento faceva freddo quasi più niente da mangiare veramente perché c'erano gli spacci che distribuivano il cibo al quale avevamo diritto ma gli spacci praticamente non esistevano più quindi c'era solo il mercato nero oppure rubare andare per forza a rubare in qualche magazzino che era ancora pieno per chi per il bunker di Hitler per i soldati per la Wehrmacht per le SS e poi i servizi igienici non avevamo neanche più i servizi igienici perché nella nostra cantina in fondo c'era un corridoio dove c'era un secchio immaginate un popolo comunque civile usare in tanti un secchio e dove lo svuoti e con che cosa lo pulisci e tu come ti pulisci se l'acqua alla fine c'era solo del fiume Spree il fiume che attraverso Berlino però siccome i morti a Berlino erano così tanti alla fine li buttavano al fiume e quell'acqua avevamo noi per bere ma cosa fai con quell'acqua ti fa morire se non lo fai bollire allora i grandi io dico sempre noi eravamo piccoli e i grandi andavano su in casa per disfare qualche immobiletto per fare un focherello nel cortile interno per bollire quest'acqua però eravamo bombardati giorni e notte e in ogni momento poteva arrivare un aereo che che sparava a qualsiasi cosa uomini o animali che fossero vabbè alla fine dopo tutto questo inferno che ovviamente ricordo molto bene ci fu la durissima battaglia per Berlino ed era l'ultima vergogna del terzo reich o diciamo meglio una delle vergogne perché la difesa della capitale dall'avanzata dell'armata rossa era stata affidata a un'unità di basi composta da adolescenti anziani e perfino di invalidi quindi chi aveva combattuto la guerra chi era rimasto con una gamba doveva difendere Berlino all'ultimo momento dall'arrivo dall'arrivo dei panzer sovietici dell'armata rossa insomma e ricordo bene anche l'irruzione di russi ubriachi nella nostra cantina ripeto sempre io avevo solo sette anni e mezzo c'erano altri bambini la violenza sessuale compiuta su due ragazzine adolescenti della nostra cantina alla quale noi bambini dovemmo assistere sotto la minaccia di un mitra puntato quindi questi russi si tirano giù i pantaloni fanno questa cosa e noi dovevamo assistere bambini o grandi indifferentemente queste sono cose che lasciano il segno perché non si può fare subire a bambini io avevo sette anni e mezzo ricordo sono traumi che ti lasciano qualcosa dentro io vi dico con estrema sincerità che io crescendo ho avuto grossi problemi con l'altro sesso insomma mi sono detta da bambina se questo che ho visto all'epoca è l'amore fra un uomo e una donna io non voglio che mai un uomo mi toccherà ovviamente questo problema poi ho dovuto superare in un modo o nell'altro tanti anni dopo mi sono sposata e ho avuto un figlio che è lì seduto in prima fila Renzo è lì poi la guerra finì e la cantina fu sgomberata e gli inquilini tornarono ognuno nel proprio alloggio per quanto integro potesse essere ancora io ero l'ultima mi trattenevo giù in quella cantina vuota e c'era il mio nonno nonno acquisito che mi aspettava e lui gridava dalle scale Erika cosa stai ancora facendo lì e io ho risposto qualcosa del genere adesso arrivo sto guardando tutto per non dimenticare niente non ho dimenticato e nel 1995 nel frattempo vivevo in Italia l'editore Adelfi praticamente mi scoprì e pubblicò il mio libro autobiografico Il rugo di Bellino e fu davvero un successo finalmente ce l'avevo fatta ma io avevo scritto prima in tedesco senza successo e ho scritto in italiano senza successo la Feltrinelli mi ha rifiutato almeno quattro manoscritti e poi arriva Adelfi e finalmente ce l'avevo fatto ce l'avevo fatto con Il rugo di Bellino il mio libro autobiografico di Bellino di quel destino che non avevo dimenticato e che dopo decenni l'avevo messo nero su bianco mi ha fatto venire mentre lo scrivevo Il mal di pancia perché prima avevo rimosso la storia e poi ripercorrendola mi sono venuti tutti i mali del mondo perché ho dovuto tirarlo fuori dalla pancia l'ho scritto l'ho consegnato e arriva la notizia strabiliante che la sconosciutissima Elga Schneider all'epoca già vedova è stata scoperta da Adelfi mi chiamarono a Milano e mi fecero un contratto di dieci anni e il rugo di Bellino e tuttora dopo dieci sette anni nelle librerie e questo è una meraviglia perché di solito o spesso i libri entrano in librerie e spesso escono molto in fretta quindi nel 95 uscì il rugo di Bellino e però poco dopo ne fu tratta un'edizione scolastica dal rugo di Bellino e le scuole cominciarono a chiamarmi vieni parla parla del tuo libro ma soprattutto fai la testimone di cosa hai vissuto a Bellino e ho dovuto capire che prima ancora della scrittrice le scuole l'Italia mi considerava una testimone e ho accettato questo ruolo anche se crescendo i miei anni diventa sempre più difficile perché è difficile è difficile sempre parlare della tua infanzia che è stato il periodo più brutto della tua vita e però continuo a farlo sempre più spesso dico di no e spesso dico volentieri di sì come agli amici della CISL che ho accettato molto molto volentieri anche con gioia con entusiasmo questo questo incontro vi ringrazio comunque dell'invito allora noi vivevamo comunque a Berlino e a me è successa una cosa brutta oltre la guerra nel 1941 io avevo quattro anni e mio fratello 19 mesi noi vivevamo in un quartiere che ovviamente c'è ancora si chiamava e si chiama Niederschönhausen una sera mia madre con mio padre già al fronte mi dice Elga la mamma deve andare via io ovviamente chiesi dove deve andare perché eccetera non metti mica a piangere la mamma deve andare via ha dei doveri e deve andare via e fai la brava ovviamente una bambina di quattro anni si mette a piangere si dispera mi sono aggrappata a mia madre non mi lasciare non andare via oltretutto mio fratello di 19 mesi dormiva nella camera accanto e lei disse fai la brava fra poco viene zia Magherete a prendervi ma io devo andare via io vedevo già una valigia vicino alla porta capivo anche se avevo solo quattro anni che stava succedendo qualcosa di irreparabile e lei se ne andò poi viene la zia a prenderci ma anche questo è un ricordo che ovviamente è rimasto come un dolore una ferita un qualcosa nel mio cuore nella mia coscienza che che farà male per sempre non è possibile lasciare due bambini piccoli perché tu devi servire il Führer il suo progetto e fare alla fine alla fine la guardiana ad Auschwitz facendo parte della Waffen-SS sempre SS erano allora vado un po' avanti 1971 dal 63 vivevo in Italia avevo un marito e un figlio sempre lui dopo essere diventata madre io lentamente era nata in me la curiosità la voglia o forse la necessità di cercare mia madre così chiese a mio padre dove la posso trovare e lui disse guarda non farlo non hai mai avuto una madre fai finta di non averla avuta mai e lascia perdere ma più un padre con il quale oltretutto non avevo cattivissimi rapporti più un padre dice di non fare una cosa più la fai così ho avviato delle ricerche e scoprì che mia madre stava a Vienna nella sua città io scrissi una lettera sono tua figlia eccetera credo di essere tua figlia e lei mi scrisse una lettera allegando delle foto mio mie e di mio fratello io a otto mesi eccetera dice vieni vieni a trovarmi ovviamente io sono scoppiata di gioia finalmente avevo trovato mia madre sapete io non sapevo per quale motivo se ne fosse andata pensavo forse si era innamorato di un altro uomo succede siamo esseri umani succede tutti i giorni succede da sempre e succederà forse sempre e quindi se ne è andata con quel tipo lì e in quel caso mi sono detta perdono voglio rivolgo mia madre voglio una madre vivevo in Italia avevo si parenti ma come succede spesso mia socia era una bravissima persona ma non era precisamente una seconda mamma per me quindi volevo una madre e volevo anche una nonna per mio figlio perché mio figlio in Italia ma anche per la famiglia di mio marito più che altro era considerato il piccolo austriaco quindi sembrava quasi che non avesse pienamente il diritto di essere pienamente italiano perché effettivamente era metà italiano e metà austriaco a parte il fatto che era metà un po' di tanto perché io sono cresciuto da da genitori austriaci però mia nonna paterna era della Bohemia mio nonno cieco-slovacco abbiamo parenti anche tra i russi tra gli ucraini eccetera quindi siamo un po' con tanti geni dentro quindi anche Renzo ha un po' di geni comunque volevo una nonna per mio figlio e volevo una madre per me e quindi mio marito in quel periodo aveva un lavoro che in quel momento non poteva lasciare io avevo fretta di andare a Vienna e ho detto a mio figlio senti ci andiamo io e te lui aveva cinque anni dai andiamo io ti faccio conoscere la tua nonna austriaca così avrei una nonna tutta per te e siamo partiti siamo partiti così a rotto di collo prendendo un treno lungo perché all'epoca non c'erano ancora i treni 71 i treni velocissimi eccetera arriviamo a Vienna una sera dormiamo in albergo la mattina dopo prendiamo un taxi e andiamo a questo indirizzo arriviamo a un palazzo vecchio vecchio palazzo berlinese austriaco anzi viennesi ormai confondo berlino viennesi io ero ovviamente molto emozionata siamo saliti siamo saliti delle scale e io mi sono detta ma dio mio lì c'è una porta dietro la quale finalmente dopo trent'anni rivedi tua madre ovviamente è un'emozione inimmaginabile no e questa porta si aprì e c'era una persona una donna che mi somigliava in un modo davvero impressionante con i suoi anni in più io non avevo parole dall'emozione davvero indescrivibile entriamo in questo appartamento e lei cominciò subito a parlare soprattutto di sé ha sistemato Renzo con dei biscotti e latte in cucina e neanche dieci minuti dopo mi chiede di di seguirla in un'altra stanza e l'ho seguita c'era un armadio lei ha tirato fuori da questo armadio un uniforme e dice vorrei che tu la provassi cioè io naturalmente non capivo perché devo perché e lei ha detto l'ho sempre sognata questa cosa di vederti questo uniforme addosso ancora non capivo ovviamente ci sono situazioni che veramente non riesci a capire e allora ho detto ma perché ci tieni tanto e lei ha detto con questo uniforme sono stata arrestata e arrestata dove? a Birkenau Birkenau dove? Auschwitz Birkenau e perché? chiedo e lei perché facevo parte della Waffen-SS e facevo la guardiana la guardiana ad Auschwitz come in veste di Waffen-SS significa innanzitutto che io sono rimasta schiantata dalla della delusione dallo shock da tutto e comunque sappiamo storicamente che le guardiane femmine femminili nei campi di concentramento nei campi di sterminio erano anche più crudeli di quelli maschili e avrai poi anche saputo che lei aveva subito una sorta di corso di addestramento perché lei potesse vedere senza sentirsi coinvolta le crudeltà che succedeva succedevano in un campo di sterminio quindi io sono scappata via ho detto una bugia ero talmente sconvolta che non resistevo più di stare in questo appartamento con lei e ho detto senti adesso io porto Renzo a mangiare qualcosa andiamo fuori lo porto a vedere il prato eccetera eccetera nel pomeriggio torniamo però non siamo tornati la mattina dopo abbiamo preso un altro treno e siamo tornati a Bologna faccio solo un piccolo così 27 anni dopo prima ho visto mia madre dopo 30 anni dopo 27 anni trascorsi a Bologna l'ho vista per la seconda volta a Vienna qualcuno mi scriveva che fosse così vecchia che forse avrei potuto fare pace con lei e sono andata a Vienna a rivedere questa novantenne è stato un incontro ancora una volta traumatisante terribile lei era ancora così guardiana così sfottente anche nei confronti di una figlia che ancora una volta viene mi ha chiamato mi ha chiesto quanti anni ho io lei io le ho detto l'età dice impossibile perché non posso avere una vecchia scatola di figlia come te quindi ovviamente ero già anziana quando sono andate non ero più giovane neanche però questa figlia che ancora una volta arriva dal dal buio e si sente dire si sente sfottere così e lì è nato da questo incontro è nato un libro io non credevo io non credevo in questo libro il libro si chiama Lasciami andare madre il libro è andato in tutto il mondo è stato tradotto almeno in 15 lingue perché è un libro crudo anche questo un libro che racconta di questo incontro terribile fra me e mia madre che alla fine l'ho ricatata perché mi sono detta voglio arrivare ad odiarti raccontami che cosa hai fatto lei mi ha raccontato delle cose terribili e la lezione che comunque ho tratto da questo incontro è questa non si può odiare la propria madre io nel mio libro ho scritto non ti odio semplicemente non ti amo quindi finita lei ad un certo punto è morta io l'ho saputo da un computer che mi hanno dato questa notizia vorrei arrivare all'ultimissima cosa perché anche per questa diciamo per questa piccola notizia se volete ma di storia anche a Delphi è rimasto è rimasto molto attento a questo mio manoscritto perché era il fatto di avere visto di persona Adolf Hitler giù nel suo bunker ora io adesso salto una cosa di questa matrigna perché mio padre dopo che mia madre se n'era andata si è risposato con una donna che non mi voleva che mi ha messo subito in un istituto per bambini difficili che non era vero perché io volevo avevo bisogno solo di amore quindi sono stati in un istituto sotto sotto giovani naziste fanatiche che ci trattavano come se fossimo dei delinquenti io avevo solo cinque anni quindi da farla breve la direzione invitò mia matrina di riportarmi a casa e subito dopo perché mio padre era al fronte non sapeva di tutto questo subito dopo lei mi ha cercato un altro esilio ed era un piccolo